Signore e signori buonasera dal Signal Iduna Park, 90 minuti per provare a fare l'impresa Borussia Dortmund contro Roma 3-3 nella sfida d'andata è veramente difficile, quasi impossibile ma noi chiaramente non abbiamo nulla da perdere quindi proveremo appunto a fare il colpaccio da spugnare il loro stadio, dobbiamo vincere a tutti i costi oppure pareggiare per 4-4 mi sembra più consono la prima chance sull'altro campo, sempre in Germania, giocano Schalke e Fenerbahce 1-1 lì all'andata e quindi chiaramente lo Schalke è favorito ma noi pensiamo intanto alla nostra partita perché come detto abbiamo tutto da guadagnare da questa sfida e quindi proveremo appunto a farlo partita che è appunto molto importante, tra l'altro ne approfitto per salutare anche Om visto che giochiamo contro il suo Borussia Dortmund, speriamo che stasera vada a finire diversamente da come poi è finita la sua carriera, visto che lui ha vinto l'Europa League con il suo Borussia noi chiaramente vorremmo evitarlo eliminandoli questa sera Borussia in campo con una formazione mi sembra l'identica dell'andata, la stessa dell'andata e quindi Ovameyang con questo 4-5-1 che appunto sarà l'unico punto supportato da Mkhitaryan e Roism ma attenzione agli inserimenti di Kundo Cane e Castro che all'andata ci hanno messo in difficoltà l'avete visto, avversario fortissimo, devo dire che la Roma se ne è cavata gli è andata anche di molta fortuna 7 giorni fa ma adesso bisogna guadagnarsi la qualificazione 4-3 per gli uomini di Federico Marconi, eccoli qui, formazione idolare a specchio anche a quella d'andata quindi i stessi uomini dopo il mini turnover contro il Napoli dove sono comunque arrivati i tre punti è tutto pronto per l'inizio di Borussia Dortmund contro Roma, pallone al centro se non sbaglio saranno Higuain e Bufal a dare il calcio di inizio in quadratura per la DDR c'è attenzione ragazzi, c'è attenzione perché siamo veramente a 90 minuti dal nostro destino arbitra l'inglese Lowcroft, allora è tutto pronto, saranno per l'appunto Higuain e Bufal a dare il calcio d'avvio, è cominciata Borussia e Roma primo pallone manoprato dai giallorossi con Manolas che la gioca in orizzontale per Castanne che torna a titolare in difesa dopo il turno di riposo, più che altro per la scelta tecnica contro il Napoli visto che la difesa non sta facendo benissimo in questo periodo aveva giocato De Rossi in quella posizione, oggi però Daniele serve a centrocampo per mancanza di altri uomini, comunque alla vigilia di una partita così importante rischiare uomini come Tiam o Benassi non era granché allora attenzione è la Roma che verticalizza subito con Salah che si butta dentro, è passato, ma metterla al centro prova e c'è la deviazione di Papastadopoulos, il primo angolo a favore della Roma dopo 5 minuti partenza crescita dei giallorossi, attenzione che c'è Nainggolan al limite Lorenzi lo vede, cerca questo spiovente per Nainggolan che mette giù palla sul sinistro, lo prova, De Rossi e la palla resta lì e poi Gundogan allontana il fallo laterale parte molto meglio la Roma ma fino a qui ci siamo, era prevedibile la partenza migliore dei nostri bisogna più che altro vedere come loro andranno ad interpretare la partita perché secondo me già la giocheranno di attesa ma attenzione Nainggolan, Pischek le spinge e poi allontana, parole verso Digne rimpallo con Gundogan il lavoro diventa buono per Pischek che la gioca dalle parti di Miki e Daryan stavo dicendo, è normale che loro ci attendano in questa prima fase per poi ripartire, chiaramente non hanno fretta e non possono giocare una partita per rascoprirsi noi invece sì, dobbiamo, siamo costretti per quello che è il risultato è chiaro che segnare subito ci tranquillizzerebbe molto Florenzi per Pjanic adesso va messo un po' di ordine dopo la partenza flash Nainggolan, tocco orizzontale per De Rossi c'è largo a destra Florenzi va a ricevere il terzino la gioca per Iguain si appoggia a Nainggolan, va dentro anche De Rossi ho visto il belga, Nainggolan cerca il numero, riesce a filtrare per Pjanic poi palla per De Rossi che può calciare con il destro sul fondo ha provato il capitano della Roma qui il gran guizzo di Nainggolan che prima ha mandato al bar un paio di giovederi il Borussia con una finta di corpo poi ha visto il movimento di Pjanic lì probabilmente troppo generoso Miralem che non se ne è sentita di riprovare ha provato Daniele la palla non è entrata ma riprova la Roma sempre De Rossi servito da Iguain questa volta chiude Hummels quindi tocco per Gundogan Pischek e Panno che diventa ancora buono per Hummels attenzione alla gran pressione dei giallorossi ora Borki va Iguain su di lui costretto ad allontanare con il sinistro il portiere del Borussia verso Aubameyang di testa a Castagna poi De Rossi ha regolato però il Borussia con Aubameyang ancora De Rossi con un fallo però calcio di munizione l'attenzione che si avvicina al direttore di gara il primo fallo arriva alle quattro d'ora arriva anche il primo cartellino giallo della partita ai danni del nostro capitano scelta secondo me un po' severa quella del direttore di gara inglese anche perché è il primo fallo appunto della partita ma comunque Mkhitaryan attenzione a restare concentrati cerca spazio poi la va a mettere in mezzo verso Aubameyang Manolas prima di tutti e riparte la Roma con De Rossi che però lascia lì il pallone è recuperato fortunatamente Nainggolan quindi Pjanic perde De Rossi sta partendo Iguain il tocco vertibile per il Pipita che ha preso campo va via Hummels si deve accentrare Iguain buono spunto ma però cerca un pallone difficile per tutti è recuperato Schmelzer che però allontana con un po' d'affanno cioè sta là a mettere in difficoltà Castro alla meglio però il giocatore in maglia giallo-nera poi il pallone allargato dalle parti di Mkhitaryan la pressione da parte di Bufal e quindi il cambio di gioco dalle parti di Schmelzer non c'è comunque un attimo di respiro anche perché la retensione si respira in tutto lo stadio e la state sicuramente respirando anche voi da casa parola per Bufal era partito Salah Bufal ora può servirlo il pallone però non arriva a destinazione non l'avevo servito inizialmente proprio per questo motivo perché ero convinto che fosse una scelta un po' azzardata visto che Bufal era messo male con il corpo alla fine ho provato ma non è andata quindi può manovrare la difesa della Borussia con Bender che riceve in mezzo al campo e allargata le parti di Schmelzer porta palla quindi Castro per Reus che sta giocando molto basso l'attacco del Borussia che ovviamente si è visto poco fino adesso ha provato in una circostanza solo a sfondare si è comportata molto bene la difesa della Roma bisogna giocarla concentrati al 200% questa partita Pichek mette giù adesso provano a farla girare loro tocco verticale per Aubameyang controlla fatica comunque riesce a tenerla allarga per Schmelzer basta là su di lui il servizio è sbagliato perché c'è Pjanic quindi Guain tocco di suola occhio a Guain va dentro Pjanic c'è anche Nainggolan pallone che non arriva a nessuno dei due e poi fallo del Bosnia con i danni di Castro peccato perché Guain ha sbagliato solo l'ultimo tocco forse anche sfortunato perché non si era accorto dell'arrivo dei due compagni comunque una Roma che ha dimostrato quanto meno di poter attaccare questo avversario visto che era andata neanche questa eravamo riusciti a fare se poi i gol per carità sono arrivati è vero che ci sono tanti aspetti per questa partita perché loro appunto come già detto in varie sedi giocano per non prendere gol giocano per non scoprirsi e quindi è chiaro che poi si ha la Roma a fare la partita intanto sull'altro campo passa il Fenerbace e questo sì che è un vero mezzo miracolo del Fenerbace perché sta espugnando intanto la Ventilis Arena dello Schalke ma poi soprattutto contro ogni pronostico sta vincendo appunto perché anche lo Schalke è una squadra che deve giocare per non prendere gol bastava lo 0-0 ma già 0-0 non è più ora però seguiamo questa con Angolan cerca Iguain non lo trova c'è Bender che torna da Piszczek dei rossi su di lui Piszczek deve tenerla va da Burki le persone che si stanno un po' complicando la vita ci fanno correre però quello che chiaramente vogliono per farci stancare e poi io sono sicuro che proveranno a essere più offensivi nella ripresa poi dipenderà chiaramente dalle sorti del match ora Manolas avanza col pallone poi si affida a Salah appoggio centrale dalle partite rossi c'è Naingolani in orizzontale va a ricevere il Belga un paio di finte ha pareggiato lo Schalke intanto quindi 2-2 totale per il momento supplementari Piszczek torna da Bender quindi il tocco arretrato addirittura da Sokratis Papastadopoulos trova Hummels in orizzontale se l'è un po' rischiata qui Papastadopoulos per il tocco a Hummels sicuramente sarebbe stata più sicura scusate il gioco di parole la la palla arretrata al portiere non se l'è sentita ora pallone recuperato dalla Roma con Manolas per Florenzi sempre 0-0 e mancano 3 minuti alla pausa Roma superiore alla Borussia in questo primo tempo dal punto di vista del pallino del gioco ma è chiaro loro più che altro ci hanno dimostrato che quando hanno il pallone tra i piedi possono fare grandi cose attenzione alla gol Sandi Aubameyang nel finale Aubameyang contro Szczesny il palo del Borussia Dormut eccolo qui lo stavo dicendo al primo fondo ci mettono subito in difficoltà primo tiro e primo palo del Borussia che arriva al 45esimo sarebbe stata una badosta clamorosa a prendere questo gol che tra l'altro mi ricordava molto quello preso a Bergamo con l'Atalanta con un pallone sbagliato di primo tempo dopo che loro non hanno combinato nulla per tutto il primo tempo voi l'avete visto ieri adesso pallone per Manolas poi Pjanic per Nainggolan che anche in zona tiro Nainggolan va troppo in avanti troppo poco lucido perde il pallone ma finisce anche il primo tempo è 0-0 non basta però comunque è importante non aver subito gol nel primo tempo perché è vero che loro non la giocano la partita o meglio non la giocano dal punto di vista offensivo perché giocano molto dietro non vogliono prendere gol sono stati bravissimi a non concedere spazi è anche vero che però se poi andiamo ad analizzare in maniera più concreta del tutto l'unica palla gol della partita ce l'hanno avuta appunto loro non si cambia nulla allora via con il secondo tempo di Borussia Roma 0-0 molto teso partita veramente difficile c'è un po' di paura in entrambe le squadre con il Borussia Dortmund che probabilmente è mancata anche un po' di lucidità in quel caso Bameyang al 45esimo ha centrato il palo a tu per tu con Cesni ci ha graziato perché la Roma può ancora non dover fare un'impresa impossibile la quale sarebbe stata quella della rimonta ulteriore a quella che già deve fare andando sotto stasera Digne De Rossi lascia il parola a Nainggolan è bravo a proteggere la zona di Nainggolan prova con il destro la risposta di Burki il parola va verso Salah che è in posizione regolare Salah tiene buono questo pallone serve Pjanic occhio a Miralem che prova a farla girare c'è Burki ben posizionato Roma che parte più aggressiva in questo secondo tempo sono già due i tiri in porta tre totali con quello del primo tempo il tentativo di De Rossi guarda per noi però si era spento sul fondo una Roma che mi sembra volerla vincere di più ma è chiaro che debba essere così ormai ve lo sto dicendo all'infinito è importantissimo segnare il gol non è ancora arrivato e stiamo attenti perché d'altro canto bisogna neanche subire gol altrimenti non basterebbe chiaramente segnarne solo uno Castan De Rossi tocco verticale capito tutta la difesa ma poi per noi è regalato a Bufal attenzione alla Roma Bufal può inventare serve la regolare sta partendo di Guaillo aspetta il ninja che poi è costretto a tornare a De Rossi va dentro anche Pjanic occhio a Miralem che passa tiene questo pallone lo offre a Salah ha chiuso papastato a Bulos quindi tocco verticale per Pameyang gioco di sponda su Bender c'è largo a sinistra Royce Bender ci mette un po' ma poi lo lancia allora Royce può puntare Florenzi lo sfida uno contro uno saltato Florenzi con troppa facilità Royce salta anche Castan poi va con il sinistro ha preso l'incrocio dei pali due diritti del Borussia e due legni siamo all'ora di gioco è sempre 0-0 ma adesso le cose attenzione alla reazione intanto sarà forse calcio d'angolo la reazione era chiaramente con il gomito c'era anche rigore qui quindi c'è andata di russo valore intanto sul primo paro Pjanic libera in una zona pericolosissima Magundogan è poco lucido anche qui colpisce male corpo all'indietro pallone alto Higuain non ci arriva c'è Kagawa la fa basta Domulus per Hummels ancora Kagawa torna da Hummels pallone dalle parti di Schmelzer però si su di lui tocco per Royce che poi va da Kagawa quindi ancora tocco verticale occhio al Borussia ha cominciato a giocare e poi errore di Obama e Young quindi rimessa per la Roma Pjanic De Rossi ha visto lo scatto di Bufal prova il lancio grande palla di Daniele gran controllo di Bufal e poi rientra magia di Bufali nel rigore Bufale fino in fondo sinistro e papà Statovolo si incalcia d'angolo il guizzo di Sofiane che ha provato la Roma pericolosa alla 65esima è arrivato fino a fondo campo praticamente e poi non poteva far nulla se non provare a calciare e allora calcia d'angolo per la Roma c'è Florenzi dalla bandierina il cross è verso De Rossi il colpo di testa è impreciso ma la Roma è viva 66 ora sull'etronometro è sempre 0-0 ma sarà ancora calcia d'angolo c'è stata di azione e quindi sempre Florenzi calcia d'angolo fotocopia al primo anzi più sul portiere infatti c'è appunto l'uscita da parte di Burchi attenzione a questo pallone Bambiniang lo mette giù Digne non deve farsi saltare come non detto la nuova è scoperta Mkhitaryan deve tornare Digne Mkhitaryan va a puntare Castan poi c'è il movimento di Obama e Young che la riceve la corsa di Obama e Young che però se ne allunga un po' troppo Digne ringrazia e la nuova riparte poco più di 20 minuti al novantesimo Pjanic pallone per Florenzi e salta Royce dovrebbe allargare perché c'è Salah lo fa con un po' di difficoltà ma il pallone arriva poi Nainggolan si muove De Rossi al centro servito Daniele trova Iguain che poi torna da Nainggolan quindi tocco verticale per Salah bella azione della Roma occhio al movimento di Nainggolan lo vede Salah che cerca di mettere la Royce a salvare il Borussia intervento decisivo perché il pallone sarebbe arrivato al Belga a quel punto era un calcio di 1 in movimento per Nainggolan ora c'è Buffal che chiama ancora il pallone lo riceve ma non lo tiene Visek per il contributo del Borussia siamo negli ultimi minuti e veramente a questo punto la partita può infiammarsi perché la Roma dovrà lasciare sempre più spazi ne mancano 18 al novantesimo Borussia 0 Roma 0 al segnal di Dula Park per il momento passa il Borussia e allora c'è la corsa di Royce ancora a lottare con Florenzi riesce a crossare pallone però che va direttamente sul fondo è il momento di cambi manca un quarto d'ora e pensiamoci per il momento scelgo queste due mosse quando manca un quarto d'ora al termine dentro Herrera al posto di De Rossi e fuori Buffal anche per lasciar campo a Fekir 74 e 45 ragazzi poco più di un quarto d'ora al novantesimo poi sarà recupero spero veramente di riuscire a segnare un gol in questo finale adesso ragazzi veramente dobbiamo andare tutti su per l'inverso Iguain che dovrebbe riuscire a spizzarla non ci riesce non riesce però neanche a tenere rivolazione della Roma perché ha recuperato la squadra di casa Piszczek Nikita Rian ancora Piszczek serve Kakawa tocco centrale per Sain e poi Pavastadopoulos Piszczek cerca di alzare il pallone Digni ha capito tutto il pallone per Herrera che mette giù ma c'è un calcio di punizione per la Roma per un fuorigioco che si c'era ma poteva benissimo lasciare correre l'arbitro lì perché il pallone ce l'avevamo noi Digni la Roma anche con paura ma vuole riuscire a trovare il gol del vantaggio non è gol an va dentro Pjanic pallone per lui Pjanic Milano e Pjanic a 10 dalla fine passa la Roma incredibile il gol arriva quando non me l'aspettavo più e lo segna il bosniaco l'uomo più atteso della serata l'uomo da cui ci aspettavamo tanto nell'ultimo periodo non ci aveva ripagato ma ora si nella sfida decisiva Nangolam fa l'assist Pjanic fa gol Burkir non ci arriva Borussia a 0 Roma a 1 e in questo momento passiamo noi signori adesso andiamo tutti in difesa perché non dobbiamo rovinare quel che abbiamo fatto in questi 81 minuti partita studiatissima della Roma che prima ha provato ad aggredire poi a difendersi è stata fortunata due legni di colpire al Borussia un calcio di rigore non fischiato a loro e adesso riparte ancora la Roma con Nangolam va dentro Fekir Nangolam fino in fondo la può mettere dentro perché c'è Fekir poi c'è un contatto anche lì ma qui non viene segnato nessun calcio di rigore perché effettivamente non penso ci fossero i limiti per fischiarlo ancora Roma con Iguain che non riesce a tenerla finisce per terra sotto gli occhi dell'arbitro che lascia correre si è infiammata la partita il Borussia è sotto e chiaramente non vuole essere eliminato e quindi cercherà il tutto per tutto in questo finale la Roma cercherà di difendersi con le forze che non ci sono più ma con la forza di volontà quella più importante Umbels allarga per Rois intanto insiste in Borussia con questo tentativo il parere arriva Ramos che la mette dentro Kakawa Herrera la palla rimane lì va allontanata Castan non so come Castan con la fascia di capitano tra l'altro va a salvare la Roma rivediamo qui Castan decisivo con la mano anche lui con la mano anche lui rubatissima è anche vero che però qui prima di toccare con la mano Castan ha toccato con un'altra parte del corpo regolare e quindi a quel punto il rigore non c'è più perché il regolamento dice che se il pallone viene toccato con una parte del corpo prima di colpirlo con la mano il rigore non c'è più ma in generale il fallo di mano non c'è più ora Cesni la Roma respira un minuto poco più al novantesimo su non c'è nessuno giustamente Cesni non sa che fare con il pallone alla fine serve Digne bisogna respirare bisogna respirare in questo finale la corsa di Lucas che deve resistere riesce a resistere poi torna ancora da Nengolan Roma che ha veramente paura in questo finale Nengolan ha rischiato di buttare via un pallone ma ha pescato Florenzi adesso ragazzi dobbiamo riuscire a non rovinare tutto il pallone per Salah che può ripartire deve puntare Schmelzer gli deve andare via Salah senza troppe finte lo manda comunque al bar poi cerca di tornare sul destro lo chiude Schmelzer ma ancora Salah che poi prova a girarla ma il pallone non arriva a Higuain perché l'ha colpita nettamente male il marocchi anzi l'egiziano attenzione a Sahin insiste il Borussia palla a destra pericolosissima per Mkhitaryan palla in mezzo Castan ancora è finita è finita la Roma va in finale chiudete le valigie l'impresa è fatta e allora ce ne andiamo a giocare contro una tra Schalke e Fenerbahce ragazzi faccio fatica a crederci perché abbiamo battuto un avversario veramente fortissimo il Borussia Dortmund di Omm perché per me ormai è questo è veramente sembra la squadra di Omm perché quella è una squadra veramente forte ma vi posso assicurare che questo Borussia Dortmund quello di questa sera un po' di meno ma quella è andata veramente tanto è veramente un avversario forte il più forte affrontato in questa Europa League fino a questo momento vi posso dire il più forte del Barcellona che abbiamo incontrato nel girone perché comunque al Camp Nou ce l'eravamo giocata ed avevamo perso con una 0 in maniera un po' sfortunata in casa abbiamo comunque vinto questo Borussia ragazzi le ha superate tutte comunque sia noi li abbiamo superati come risultato perché 4-3 totale perché la Roma va in finale si va ai supplementari tra Schalke 0-4 e Fenerbace adesso sono curioso di vedere 3-3 passa passa il Fenerbace passa il Fenerbace attenzione andiamo a vedere il tabellone la finale di Europa League la finale di Europa League perché potrebbe essere Roma-Fenerbace così è una finale ragazzi sulla carta siamo favoriti la finale di Europa League è Roma-Fenerbace la finale meno attesa perché comunque intanto sono passate le due squadre sfavorite e questo è il bello del calcio la Roma sfavorita dopo il 3-3 dell'andata il Fenerbace è sfavorito dopo l'1-1 dell'andata certo loro hanno fatto un'impresa minore a quella nostra perché comunque con tutto rispetto per lo Schalke un conto è battere il Borussia un conto è battere lo Schalke e loro comunque sono riusciti a strappare un 2-2 portandoli fino ai supplementari e guadagnandosi la finale quel che penso io lo sapete ormai indifferentemente dall'avversario che affrontiamo se sono arrivati in finale un motivo ci sarà la nostra Fiorentina contro il Villareal adesso veramente sono curioso di capire quando ci sarà questa finale andiamo a vedere il calendario perché sarà il 18 maggio dopo Mila e Roma quindi saremo forse campioni d'Italia forse no anche lì sarà molto difficile ce la giochiamo da sorteggio in casa ed è una finale isperata ma sono contento che voi abbiate vissuto questo video insieme a me sono veramente contento che abbiate sofferto insieme a me adesso devo un attimo ragionarci perché comunque a caldo è sempre difficile dare le proprie sensazioni vi posso dire solamente una cosa sono contentissimo di questo passaggio del turno mi sembra anche banale dirlo non posso far altro che rimandarvi al prossimo video che vi giuro ve lo porto prestissimo perché adesso magari lo registro direttamente il prossimo episodio in questo finale ragazzi dobbiamo assolutamente giocare come abbiamo giocato questa sera contro le Borussia Dortmund dobbiamo giocare con il cuore perché non abbiamo nulla da perdere abbiamo rischiato tanto siamo stati fortunati il destino ha voluto questo magari il destino era anche un rimontone in campionato forse no non abbiamo fretta perché comunque dobbiamo ancora costruire una grandissima squadra se non vinceremo questo campionato ragazzi è chiaro vinceremo il prossimo perché siamo lì e sbagliando si impara questo dice il proverbio quindi magari sconfitte come quella nel derby come quella contro l'Atalanta magari prestazioni al di sotto delle aspettative magari la mentalità che in questo campionato è andata bene più avanti andrà meglio questa è la mia speranza questa però è anche l'evoluzione di un essere umano imparare dai propri errori magari questa squadra imparerà dai propri errori di questa stagione qualora non riuscisse a vincere qualora invece ci riuscisse merito a noi per un altro miracolo per il momento di ragazzi vi saluto lasciatemi tantissimi like qui sotto per questa impresa alla Signal in una Park se non lo siete già iscrivetevi al canale perché la Roma è andata in finale ho fatto la rima e allora bella regà ciao 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 ciao